Bene ragazzi, allora oggi voglio fare un video che riguarda di nuovo Ledger perché c'è un nuovo aggiornamento, quindi sono qui con il mio Ledger Nano S e andiamo a vedere a cosa mi riferisco. Questo è il sito ufficiale, ma quello che dobbiamo andare ad aprire noi è il nostro manager, quindi andate sulle vostre applicazioni del browser, qui dal Ledger Manager, andrete a trovare questa schermata qui, no? Da questa schermata qui vedete che c'è un nuovo firmware disponibile, andando a cliccare e sempre andando comunque non succede niente perché ovviamente non è che può succedere qualcosa ai vostri asset che sono salvati come chiavi private nel dispositivo, però assicuratevi sempre che i vostri seed siano al sicuro, quindi avete scritto queste 24 parole chiave in un modo sicuro, su pezzo di carta, messe da parte, insomma con la vostra sicurezza, possibilmente in modo separato. Adesso l'installazione del firmware vuole una conferma sul dispositivo, ok? Quindi adesso sta installando il nuovo firmware. Mentre installa volevo dirvi una cosa, se per caso vi arriva la notifica che non avete sufficiente spazio per installare questo nuovo firmware, dovete disinstallare qualche applicazione che avete, quindi magari avete diversi wallet e ahimè dovete un attimo ridistribuire i vostri asset, del tipo avete i wallet di Bitcoin, Ethereum, Dash e NEO. E non basta lo spazio per il nuovo firmware, dovete spostare un attimo ad esempio i vostri dash che hanno un costo basso di spostamento, di trasferimento su un altro wallet momentaneamente e magari cancellate l'app, comunque anche cancellando l'app non andreste a perdere i dash che avete sul ledger, solamente che non avreste la possibilità di visualizzarli, quindi magari li muovete, cancellate, rinstallate. Insomma dovete un po' giocare con lo spazio che avete sul ledger perché purtroppo è limitato. Adesso quello che è successo è che il nuovo firmware mi ha completamente cancellato tutte le applicazioni, quindi non ho più nessuna applicazione sul ledger. Vado a installare quelle che mi interessano, quindi non so se questa è una cosa che succederà anche a voi, in questo caso è successo così a me. Quindi ristallo il wallet Bitcoin, ripeto non abbiate paura perché è solo un'applicazione per visualizzarle, ma comunque non state cancellando quelle che sono le chiavi private all'interno del dispositivo. Ho ristallato la versione del wallet di Bitcoin ed è disponibile Bitcoin, ma quello che vi voglio far vedere è che con questo nuovo firmware abbiamo qui la possibilità di avere un wallet nano. Sappiamo che il wallet nano non è poi semplicissimo e finalmente c'è la possibilità di averlo sul nostro ledger nano, quindi appunto ledger nano S senza giochi di parole. Ed ecco qui che anche il wallet nano è sul ledger nano. Quindi appunto troviamo la presenza di nuovi wallet installabili sul nostro ledger come applicazioni per poter avere la possibilità di avere in modo più sicuro i nostri asset direttamente su un hard wallet. Principalmente a me la soluzione nano già risolve molti problemi perché non mi è mai piaciuto il wallet che c'era disponibile sul desktop e sono stato costretto a tenere i miei nano per lungo tempo su exchange, cosa che sconsiglio sempre. Inoltre abbiamo soluzioni come Bitcoin private anche se il wallet comunque funzionava bene e i new entry sono anche ad esempio Peercoin e Nimic. A brevissimo l'annuncio che voglio fare è quello che arriverà il supporto, quindi arriverà un nuovo firmware ed il supporto per Monero. Questa secondo me è l'impresa più difficile che sta affrontando ledger perché comunque sia il protocollo Monero è un pochino complesso. E quindi avere un wallet che poi sarà un light wallet sul nostro hard wallet direttamente per Monero è una cosa fantastica. Non so se avete esperienze nella sincronizzazione quindi nel lancio del demone con il wallet con il noto completo Monero. Insomma è nonostante essere un wallet molto pesante è anche punto lungo da sincronizzare e difficile da gestire. E non mi è particolarmente simpatico anche l'interfaccia soprattutto l'UI quella su Windows non ne parliamo ma comunque anche su MacOS non è delle migliori. Sarebbe il modo ottimale quello del wallet su linea di comando che comunque non è il massimo e comunque non è user friendly. Quindi arriveranno questi aggiornamenti. In più mi aspettavo l'aggiornamento perché c'è l'annuncio di un nuovo di un'applicazione wallet desktop e sia per desktop che per mobile che verrà rilasciata che sostituirà quindi le versioni quelle su applicazioni come usato adesso su Chrome. Tutto ciò doveva essere rilasciato il 9 giugno. Ah no scusate è la nuova edizione è per il 9 luglio. Quindi l'aggiornamento fatto è che saranno rilasciate entrambe il 9 luglio. Con questo vi dico di comunque aggiornare sempre il vostro legge perché come vedete ci sono delle belle soluzioni e abbiamo la possibilità di tenere tutto al sicuro in modo semplice e in modo che ci farà stare molto molto più tranquilli senza la problematica di avere poi magari un wallet che ci dà problemi di sicurezza o comunque ci rovina un sistema operativo perché comunque certi wallet sono veramente invasivi e ingombranti. Vi ringrazio per l'attenzione è stato giusto un breve aggiornamento mi raccomando tenete sempre i vostri asset le vostre cripto al sicuro questo è uno dei metodi che personalmente mi permetto di consigliare altrimenti c'è per esempio la variante treasure di cui non ho tanta esperienza. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.